Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Eccoci qui amici di Radio Bruno in diretta da Sanremo con Noemi, ciao! Ciao, buongiorno, buon pomeriggio anzi ormai A Sanremo non si sa mai che orario sia perché comunque siamo dentro un frullatore di musica Verissimo, un frullatore di musica di parole e di interviste Bello però, mi piace questa full immersion, mi fa bene So che è il tuo quinto Sanremo, però l'emozione è un crescendo o un calando, com'è? No, guarda, se devo fare un bilancio di quelli passati è fortissimo la prima sera Poi la seconda, la terza, finale di nuovo fortissimo, quindi è una specie di U Ma sempre fantastico, stanca molto a livello emotivo però da grandi soddisfazioni A proposito di emozioni, la canzone è molto molto bella Grazie, sono contenta perché è una canzone in cui credo molto, è molto semplice A questo ritornello non smettere mai di cercarmi che è potentissimo Io credo che sia una frase che può essere veramente vissuta in modi diversi Perché sì, la classica storia d'amore, però anche l'amore che può avere un padre per un figlio che non vede O che ne so, quando mi è capitato di stare a Londra, ho vissuto due o tre anni e non potevo vedere spesso i miei genitori E delle volte, insomma, anche in questa situazione non smettere mai di cercarmi, ci può stare Potrebbe anche cercarti un nuovo autore, potrebbe sfociare in quest'anno, in questo 2018 una bella novità Qualcuno dovrebbe cercarti, un tuo sogno? No, di solito sì, mi cercano abbastanza, però li cerco tanto anche io perché io sono molto, mi piacciono le collaborazioni Poi sono contenta perché ho firmato anche questo pezzo, perché ho partecipato alla scrittura di parte del testo E sono molto onorata di questo Beh, io gli autori li ho cercati e li ho trovati Perché c'è Tommaso Paradiso, Francesco Tricarico, Anastasi Che sono per me degli autori molto, Gaetano Curreri che c'è anche in questo disco, che per me è anche un grande amico E sono contenta perché tutti loro sono diversi, però quello che li accomuna è un grande amore per la semplicità, la verità E sai, alcuni sono più ironici, tipo Tommaso, altri sono più poetici come Francesco Però mi piace perché mi hanno dato del gran materiale su cui lavorare e su cui credo moltissimo Noi invece non vediamo l'ora di sentirti venerdì nella serata dei duetti E con la Paola Sì, Turci La mitica Paola Turci, guarda io l'ho scelta per un motivo, a parte la stima che mi lega a lei Poi le voglio bene, è una donna pazzesca Ma soprattutto perché portare una donna in più al festival mi sembrava una bella cosa Visto che siamo solo in quattro, dico se devo fare un duetto con una donna Poi una donna che ha un grande peso perché comunque io credo che lei sia molto credibile E quindi legato a tutto questo movimento che si sta creando oggi, anche nella lotta contro la violenza sulle donne Diciamo che ci sono delle attrici adesso che hanno scritto questa lettera Anche noi cantanti, nel mio piccolo, scegliendo una donna con me Ho cercato di portare veramente anche le donne a Sanremo Prima di parlare del tuo tour, questo Sanremo, senza eliminazione, ti piace? Bello? No, è bellissimo ragazzi Soprattutto perché sono contenta che ci siano anche dei grandissimi nomi Come Ornella Vanoni che è pazzesca sul palco Io ho guardato le sue prove, a parte un gran fisico Pantalone, camicia E poi è bello perché giustamente una con la carriera come Lavanoni non si mette in gioco Rischiare un'eliminazione per quanto sia remota Però è bello perché sono tornati anche questi grandissimi nomi E per me è un onore calcare il palco con loro, assolutamente Allora 29 e 30 di maggio Che appuntamenti ci sono? Sono le due anteprime del mio tour 29 e 30 maggio sarò a Milano agli Arcimboldi Il 29 e il 30 sono a Roma all'Auditorio Un Parco della Musica Nella Sala Santa Cecilia Una grande soddisfazione per me perché è tutta una scusa per cantare dal vivo Spero che veniate numerosi ad ascoltarmi, ad ascoltare i miei musicisti Ci divertiremo A proposito della tua voce, c'è uno studio di un'università che ha messo confronto La tua con quella di Adele Sì Pazzesco Sì, in realtà sì, erano due voci che loro hanno studiato Perché abbiamo un modo di cantare e di tenere la nota che è un po' incerta E quindi sembra che dia questa emozione molto forte Io sono onorata perché Adele è una grande cantante E essere inserite tutte e due nello stesso studio mi sembra una cosa assurda Grazie mille quindi a Noemi, grazie Grazie a te Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renault Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti